Il primo obiettivo è impedire a tutti i pullman in arrivo il transito e la sosta in centro e nella zona orientale. Polizia Municipale mobilitata per far rispettare il divieto che vige tra le 15 e le 23. I pullman non prenotati e tutte le auto private saranno dirottati nell'area della Rechi. Chi con l'auto vorrà raggiungere il centro intorno alle 16.30-17 potrebbe, se il centro sarà già congestionato, trovare chiusi gli svincoli di Fratte e Salerno centro. Oggi sono attesi a Salerno 93 pullman, domani 257 sono gli ultimi dati delle prenotazioni, altri 134 tra lunedì e martedì. L'affluenza record riguarda però soprattutto i camper, tra oggi e martedì saranno 788, 179 oggi, 236 domani, 196 lunedì, 177 nel giorno dell'Immacolata. Chi dalla zona orientale vorrà raggiungere il centro farà bene a servilsi della metropolitana ultime corse a mezzanotte e 51 da Salerno centro e dall'1 e 21 dallo Stadio Rechi. Dalle 16 alle 2 di notte saranno attive le navette che faranno la spola tra lo Stadio Rechi ed il centro cittadino. Alle 17.30 nella Galleria Capitol il Sindaco Napoli presenzierà l'annullo filatelico che celebra luci d'artista. Poi alle 18 sarà in piazza Portanova per l'accensione dell'albero, quindi visiterà un presepe nel centro storico. Poi il Sindaco Napoli si sposterà dalla parte opposta della città in piazza Caruti di Brescia a Pastena per l'accensione della foresta di ghiaccio e successivamente sarà in piazza Giancamillo Gloriosi a Torrione dove si trova la slitta di Babbo Natale. Tra le due piazze il primo cittadino farà tappa a Villa Carrara per l'iniziativa Accendi il tuo futuro, l'esposizione di luci ecosostenibili realizzate con materiali riciclabili e luci a basso consumo energetico alimentate da fonti rinnovabili. Per il prossimo weekend possiamo avvalerci dei dispositivi che non abbiamo potuto mettere in campo negli scorsi fine settimana a partire dalla sistemazione delle corsie preferenziali delle navette che collegano la zona dello stadio a Reghi con il centro città. Grazie anche poi a un accordo raggiunto con lo stesso CSTP abbiamo implementato significativamente la presenza delle navette che potranno garantire un servizio di collegamento con il centro ad intervalli al di sotto dei 10 minuti, dagli 8-9 minuti. Questo ci aiuterà molto e proprio per questo il dispositivo prevede che buona parte dei flussi soprattutto quello veicolare sarà indirizzato nella zona della Reghi quindi attraverso un dispositivo che determinerà il flusso nella zona della Reghi e quindi alleggerire quando è più possibile il traffico veicolare soprattutto nel centro città fermo l'estante che tutti i pullman tranne quelli che hanno particolari e specifiche esigenze per esempio i pullman che devono arrivare in prossimità degli alberghi centrali o quelli con particolari esigenze portatori di handicap eccetera quindi limitatissimi, tutti gli altri non potranno accedere al centro città. Intanto si chiedono il controllo delle uscite dinamiche dell'autostrada, dei raccordi della tangenziale cosa sta a significare? Questo dispositivo è stato articolato insieme con il raccordo in particolar modo con la Polizia Stradale che avrà il compito appunto in determinati momenti allorquando registriamo una situazione di difficoltà eventualmente registrassimo una situazione di difficoltà nel centro cittadino di chiudere a quel punto le uscite e indirizzare sulle uscite alternative ma non essendo una vera e propria ordinanza ma bensì un dispositivo abbastanza elastico e dinamico all'occorrenza chi dovrà recarsi in zone prossime all'uscita perché abitano in quartieri non congestionati sarà garantito anche questa opportunità.